Un evento live e streaming per promuovere le eccellenze enogastronomiche del Comune di Cerveteri. E' quanto avverrà nella giornata del 30 dicembre quando si accenderanno le telecamere sui volti di agricoltori e produttori che parleranno delle prelibatezze dei territori ceriti. L'idea nasce dall'Associazione 3.0 con il sostegno del Comune di Cerveteri e l'assessorato all'agricoltura. L'evento così come è stato strutturato da noi è presentato all'amministrazione comunale che l'ha accolto favorevolmente, soprattutto l'assessorato all'agricoltura del Comune di Cerveteri nella persona dell'assessore Riccardo Ferri. E' stato strutturato in modo che tutte le aziende possano essere conosciute. Quelle che hanno aderito a questo progetto sono svariate, come sono svariate le aziende sul territorio. E quindi abbiamo aziende che producono miele, aziende che producono ortaggi. Abbiamo anche agriturismi che hanno produzione di olio, di ortaggi, di frutta, di verdura. E quindi non solo vendono il loro prodotto, ma lo utilizzano all'interno dell'agriturismo nella ristorazione. Lo scopo è quello di creare una piattaforma e promuovere le eccellenze cittadine, non solo culinarie e dell'agroalimentare, ma anche culturali, artistiche e paesaggistiche.